oggi c'è stato un annuncio 11 agosto nel percorso nel breve periodo quindi parliamo da oggi a metà settembre ci sono due grosse novità corso di inglese e lezioni di padel entro fine mese di settembre sarò all'altezza del non i più forti ma di quelli appena sotto come perché giocherà meglio di evi ha detto sì l'hai detto mi ricordo il primo giorno di leo qui nel club dieci anni fa le persone si chiedevano che cosa ne sarebbe stato del nostro progetto per questo club sei pronto per la prima di campionato il camel che è concentrato vi vedete dopo scena allora sono qui dentro da yes cammelle devo dire che c'è un grande assortimento abbiamo aggiornato qualità qualità e stiamo scegliendo va bene poi vi aggiorniamo facciamo vedere i costumi c'è di tutto colori bellissimi ciao 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 bobb bob vieni calcio 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 bobb vero calcio vero calcio buona serata ciao 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 ciao